Sì, anche Alex poteva avere il suo mezzo, ma ha deciso di bruciare tutti i suoi soldi. E perché l'hai fatto? Non mi servono i soldi. Rendono le persone prudenti. Andiamo, Alex. Un po' prudente lo devi essere. Quel tuo libro lì sarà anche bello e tutto, ma... non è che puoi vivere solo di foglie e bacche. Non so se ho voglia di vivere con molto più di questo. Dove sono tuo padre e tua madre? A vivere la loro vita da qualche parte. Hai l'aria di chi è stato amato da bambino, sì, giusto? Giusto? Lo sai cosa voglio dire. Parafrasando quello che dice Toro, non l'amore, non i soldi, non la fede, non la fama, non la giustizia. Datemi la verità.